Se veramente siete determinati nel provare a fotografare seriamente il sole, io devo mettervi in guardia. Seguite questo video fino alla fine perché rischiate seriamente di rimetterci un occhio. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Sono molto affascinato dallo spazio e dai corpi celesti. Infatti, come potete vedere, sono comparsi due piccoli astronauti sul mio sfondo, giusto a ulteriore testimonianza. Nel corso degli scorsi giorni ho provato a fotografare il sole, con buon successo, devo dire, perché sono riuscito non solo a fotografare il sole, ma addirittura a catturare le macchie solari che si vedono abbastanza bene negli scatti che vi mostrerò oggi. Andiamo però a vedere come sono stati realizzati questi scatti e soprattutto andrò a darvi qualche piccolo consiglio per evitare danni alla strumentazione, perché comunque stiamo parlando della luce più potente che esiste nel nostro sistema solare e quindi è una cosa con cui dobbiamo avere un minimo di accortezza. Soprattutto dobbiamo cercare di evitare danni alla nostra persona, perché fotografare il sole non sembra, ma può essere estremamente pericoloso. Prima di cominciare vi ricordo di cliccare il bottone iscriviti qui sotto per rimanere aggiornati su ulteriori video che parleranno di temi fotografici, video, design e quant'altro. Tutte cose che se avete cliccato questo video probabilmente vi interessano. Andiamo a cominciare, io vi mostro subito qualche foto e vi dico che ho cominciato a scattare con il mio muletto, quindi ho usato la Canon EOS 550D, stavamo scattando con il Sigma 70-300 e stavamo scattando a f14 un duecentesimo di secondo e ISO 100. La prima fotografia che ho realizzato poteva anche andare bene, però come potete vedere si vedeva un po' di sole e un po' di nuvolette, però la sfera, la superficie del sole era chiaramente sovraesposta. Un secondo tentativo mi ha portato a scattare sempre a f14, sempre a ISO 100, ma con un valore di un due millesimo di secondo, che se non ricordo male è il massimo che la mia fotocamera mi consentiva. La 550D arriva al massimo a un due millesimo di secondo. E vedete che in questo caso la foto è come la volevamo, nel senso che il sole finalmente è esposto correttamente, è esposto così correttamente che riusciamo addirittura a vedere le macchie solari sulla sua superficie. Un risultato che vi confesso non mi aspettavo mi venisse così al primo colpo. Il motivo del successo è dovuto sostanzialmente a due fattori. Il primo ho utilizzato un'ottica abbastanza lunga da permettermi questo tipo di cattura. Il 70-300 montato su un'ottica PSC viene moltiplicato per 1,6, non mi ricordo cosa venga fuori, ma credo che siamo sul 420 o una cosa del genere, quindi diventa un'ottica piuttosto lunga. Ovviamente se avessi avuto un 600 sarebbe stato ancora meglio. Avrei potuto ingrandire ulteriormente il mio soggetto, invece così vedete che tutto sommato occupa una porzione limitata del fotogramma. Il secondo motivo che mi ha portato a azzeccare subito lo scatto che volevo al primo colpo è stato il momento della giornata che ho scelto per scattare le fotografie. Infatti ho scattato le mie fotografie esattamente al tramonto, poco prima che il sole scomparisse oltre l'orizzonte. Perché vi dico che questo è importante? Per tutta una serie di motivi, ma soprattutto perché a quell'ora il sole basso sull'orizzonte ha una luce meno intensa, meno violenta, meno pericolosa. Questo è dovuto al fatto che il sole, siccome sta tramontando dietro alla sfera della nostra Terra, praticamente ha più atmosfera da superare. La luce solare deve passare uno strato di atmosfera che è più lungo. Se fosse stato allo zenita a mezzogiorno lo strato dell'atmosfera sarebbe stato più sottile da attraversare e quindi la luce solare sarebbe stata molto più potente e molto più violenta. Perché vi dico questo? Perché io ho realizzato questo scatto senza utilizzare filtri di protezione. Ora attenzione, sono stato molto attento e infatti ho visualizzato l'immagine sul display, non ci ho messo l'occhio dentro. Perché guardare il sole attraverso l'obiettivo è molto pericoloso. Quindi non fatelo, non provateci neanche, non lo fate neanche per scherzo, perché una cosa del genere può essere molto pericolosa per i vostri occhi. Io l'ho fatto senza filtri di protezione perché essendo al tramonto è una luce che si riesce a guardare a occhio nudo e quindi fissarla anche all'interno dell'obiettivo fotografico è meno pericoloso. Insomma ho comunque utilizzato il display perché se devo scegliere se avere un danno al sensore della macchina o se avere un danno al mio occhio, francamente preferisco buttare il sensore. Quello posso ricomprarlo, i miei occhi no e vale anche per voi che mi seguite da casa. Non ho usato filtri, come vi dicevo, perché il sole era abbastanza blando come luce, era tenue, stava calando, era una palla rossa e quindi era meno violento che a mezzogiorno. Quindi si riusciva a fotografarlo anche così, anche se notate che ho dovuto scattare a f14 un duemillesimo che era il massimo che questa macchina mi consentiva, ISO 100. Quindi se fosse stato più luminoso non sarei riuscito a fare questa foto senza utilizzare filtri. Ora, se stessimo parlando di eclissi o di sole in un momento diverso dal tramonto, quindi sole più potente, più violento, esistono dei filtri fatti apposta, che si chiamano proprio filtri solari. Trovate qualcosa su Amazon e se c'è ancora disponibile vi metterò un link in descrizione perché è un prodotto che non ce n'è tanti, ogni tanto vedo che non è più a catalogo. Se lo trovo vi metterò in descrizione un link di Amazon dove potete trovare un filtro solare che è fatto apposta per fotografare eventualmente un eclissi e è un filtro con un livello di protezione più alto del normale. In alternativa, se non dovesse essere disponibile, documentandomi, ho letto un paio di articoli in cui si faceva riferimento all'utilizzo di normali filtri ND per lo stesso scopo. La particolarità qual è però? Bisognerebbe andare a sommare più filtri ND perché ci vuole un grado di schermatura superiore per fotografare il sole quando è bello cattivo e quindi bisognerebbe andare a un ND da 10, 14, anche 16 stop. Quindi probabilmente, visto che non sono facilissimi da trovare filtri ND di quella gradazione che è abbastanza intensa, secondo me la cosa migliore da fare è sommarne due. Se sommiamo due filtri ND da 7 stop, siamo a cavallo, abbiamo risolto il problema. Ovviamente andiamo a schermare il nostro sensore, andiamo a schermare eventualmente anche i nostri occhi, ma anche se abbiamo un filtro il mio consiglio è sempre lo stesso. Non mettete l'occhio dentro un obiettivo dentro al quale sta passando la luce diretta del sole, perché può essere pericoloso. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto il giochino di bruciare il pezzettino di legno con la lente di ingrandimento. Quando noi andiamo a concentrare la luce del sole con la lente di ingrandimento, andiamo a generare un fascio di luce così potente che brucia le cose. Immaginatevi un raggio del genere amplificato non da una lente di ingrandimento, ma da un obiettivo lungo così, immaginatevi che cosa può fare al nostro occhio. Quindi per questo il titolo del video è un po' catastrofista e per questo ci tengo a mettere l'accento su questo punto, perché secondo me il sole è un bellissimo corpo celeste che possiamo fotografare, con cui ci possiamo divertire, trarne soddisfazione e portarci a casa delle bellissime immagini. Ma dobbiamo sempre tenere a mente che la prima cosa è la nostra sicurezza. Non rischiamo di perdere un occhio per portarci a casa una foto da mettere su Instagram. Ragazzi, questa è la cosa più importante che ho da dirvi oggi. Al di là delle fotografie non perdiamo gli occhi per fotografare il sole, non perdiamo gli occhi in modo stupido. Seguite i criteri di sicurezza, non guardatelo direttamente, usate il display, non usate neanche l'oculare. È meglio di no, utilizzate il display, perché poi magari uno dice ma tanto la mia è una mirrorless elettronico e poi ti distrai, ne hai due, una è mirrorless e l'altra no e ti fai un danno all'occhio. Fidatevi di me, è meglio evitare. Detto questo, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate. Io vorrei avere delle ottiche più lunghe, non è detto che un giorno magari non me le compri. Fatemi sapere se vi interessa l'esplorazione spaziale. Quanto a me, a me interessa eppure non ho ottiche adatte, però mi piacerebbe. Ho visto che esistono dei telescopi con cui si possono fare delle cose bellissime. Ho cominciato a informarmi perché non si sa mai. Magari un giorno prima o poi corono il mio sogno e mi compro un telescopio con cui non posso vedere niente, perché da Milano da casa mia non si vede un tubo. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace fotografare stelle, corpi celestri e quant'altro. Ne parleremo come sempre nei commenti, iscrivetevi per non perdervi gli shorts di risposta. Signori, è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro buon sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.